Previsioni meteo per martedì 7 agosto. Al nord, passaggio temporalesco sul nord-ovest dell'Italia e sull'Emilia-Romagna, con temporali a tratti intensi. Al centro, prevalentemente soleggiato con qualche isolata attività temporalesca sui settori appenninici centro-meridionali, qualche temporale possibile anche sulla Sardegna. Al sud, sole e bel tempo su tutte le regioni, qualche rannuvolamento su campania e basilicata. Venti, deboli da sud. Mari, calmi. Temperature, in lieve calo al nord.